Poi c'è scritto che avverrà un omicidio a casa tua? Benissimo, prima o poi ci saranno. No, 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 stasera! Probabile, molto probabile! Senti, volevo soltanto chiedere alla signora se fosse una parente. Ma di chi? Ma dal morto! E quale morto? Quello che verrà ucciso. Oddio, oddio, l'ho ucciso morto! Ma no, ma prima sarà vivo! Ma la vittima è morto! Il mio fidanzato! Eh! Fidanzato! E l'ho dato? Sì, da sei anni! Ma mi ama, mi ama, mi ama! Io lo sento! Oh sì, oh sì, cara povera figlia! Vede, le persone noi care, anche se dal cielo ci sono sempre vicine! Ah, ma cosa c'è? Ma non è morto! Sei mai l'assassino? È morto l'assassino! Ma no, ma no! Eh? Ma scusate... Ma che cazzo è morto allora? Adesso! Mi lascia... 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 Nessuno si prova! Ma non ci vuole essere per me! Mi è scherzo possibile! Mi stai spia... Mi è vero! Ah... Ah...